Ciao ragazzi, faccio subito questa premessa, ci saranno parecchie stories perché voglio parlare di una cosa importante e adesso vi spiego. Anche se siamo arrivati molto in ritardo, vorrei discutere sulla questione dell'intervento del senatore Cangini che ha fatto sul TG1 ormai da un po' di tempo a questa parte, circa verso fine aprile più o meno. E vorrei parlare di questa questione che ha sollevato, cioè sull'uso che non può fare altro che generare in abuso, dei videogiochi. In particolare delle console, lui in particolare si è focalizzato sul fatto che ha paragonato la cocaina al videogioco, nel senso che la cocaina secondo lui genera... No, secondo lui in realtà è così, rilascia, scusate, il feromone del piacere che è lo stesso che rilascia anche nel momento in cui si gioca al videogioco. Ma questa cosa l'ho spiegata malissimo adesso, ma l'approfondiremo in live su Twitch, io proprio a questo volevo arrivare. Domani appunto faremo una live, il podcast del commenta di Just Chatting, chiamiamolo come volete, su questa questione proprio e voglio approfondirla anche con voi. Nel senso che lui, oltre all'intervento, ha proprio scritto un libro su questa cosa, adesso vi metterò le foto nelle prossime stories, non so quando, della prefazione del suo libro appunto con le cose che afferma, che sono il succo, dicevo, di tutti i suoi vari interventi che ha fatto tramite il podcast di Ivan Greco, oppure tramite proprio l'intervista sul TG1. Io sono rimasta un po' perplessa, ci sono alcune cose che condivido sotto certi aspetti con lui, per altri no, se non avete visto il servizio del TG vi invito a vederlo e vi invito anche a consultare eventualmente il podcast di Ivan Greco proprio su questa cosa, cercando su YouTube lo trovate, e se scrivete Cangini Ivan Greco oppure Cangini Player Inside trovate magari un po' più di informazioni approfondite. Io comunque adesso vi lascio la prefazione del suo libro in modo tale da discutere e da trarre spunto per un vostro commento che, come ho detto prima, poi che ho scritto. Potete mandare qualsiasi cosa, un messaggio in direct approfondito, un messaggio vocale che poi farò ascoltare durante la live, oppure scrivendoci una mail su minions2120.gmail.com, praticamente scrivendoci una mail, oppure inviandoci un video breve di un paio di minuti sulla mail, ci fa piacere da inserire così poi durante il podcast. Io spero di aver reso più o meno il succo in queste poche stories perché c'è poco tempo, ma domani voglio stare qui, voglio stare in live su Twitch per approfondire la questione, anche se siamo arrivati in ritardo, ripeto, purtroppo errore mio, ma bisogna raggruppare un attimino le idee perché qua purtroppo se si dice una cosa sbagliata ci si può trovare, diciamo, nei guai. Ragazzi, quindi, per inviarci un video oppure un messaggio potete farlo stesso in live e in direct, oppure inviandoci a minions2120.gmail.com un video per un commentare che inseriremo appunto nella live. Io vi lascio, come promesso, la prefazione del libro di Cangini, in modo tale che possiate trarre spunto dalla sua prefazione per commentare poi, eventualmente, se volete, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione. La live, scusate, non sarà alle tre e mezza quattro, ma verso le quattro e mezza cinque perché dobbiamo un attimo organizzarci poi con tutto, anche con il background e mettere a posto un po' di cose perché quando si fanno queste live stream particolari serve anche un attimino di organizzazione un po' per qualsiasi aspetto e chiaramente noi durante la live vi leggeremo tutti perché se magari non avete scritto, non avete letto in tempo il messaggio per darci una vostra opinione prima della live noi comunque durante la live leggeremo tutti i commenti che scriverete magari e vi invitiamo tra l'altro a condividerla quando ci sarà in modo tale che possiate far entrare quante più persone possibili ma non per lucrarci su questa cosa, assolutamente noi non vogliamo lucrare su questa cosa ma vogliamo raggruppare le idee di più persone far sentire la nostra opinione perché ci riguarda noi non è che guadagniamo molto tramite videogiochi quindi non è che viviamo per giocare videogiochi però comunque è un nostro hobby, è una nostra passione noi cerchiamo di trasmettere la nostra passione per i videogiochi e quando poi vengono sollevate queste questioni ci fa piacere poi approfondirle, sentire il vostro parere raggruppare il parere di più persone possibili non so, trasmettere un messaggio anche piccolo, anche se pochi di noi però vogliamo trasmettere un messaggio e chiarire un po' tutta la questione quindi magari se la condividete domani la live ci fa piacere e niente ragazzi, adesso smetto di parlare vi lascio a voi, vi lascio a commentare eventualmente scrivendo anche un breve messaggio in direct ci fa piacere se commentaste anche voi grazie a tutti grazie a tutti